amici zagoriani bentornati ecco il nuovo zagor zenith uscito oggi in edicola con qualche giorno di ritardo a causa della festività del primo maggio ma finalmente è arrivato diamogli un'occhiata insieme velocemente a questo albo dove prosegue la saga del ritorno di super mike allora la copertina avevamo già vista secondo me stratosferica bellissima di alessandro piccinelli e anche quella successiva secondo me è un capolavoro e poi ne parleremo perché io a sentire certi commenti a vedere certi commenti in rete ragazzi sinceramente non ce la faccio più mi mi mordo la lingua tutte le volte che leggo dei commenti e non intervengo perché sennò sennò poi mi conosco e insomma non non è che non li accetto perché i commenti sono tutti giusti però per me ci sono delle cose veramente anzi guardate ve la faccio vedere subito questa è la copertina del prossimo numero i due sfidanti uscirà il 4 giugno ora ditemi voi poi al di là dei gusti personali però come si fa a dire che questa è una brutta copertina cioè evocativa i due sfidanti pronti ad affrontarsi questa lancia nel mezzo che probabilmente avrà un significato nella storia vedremo con gli indiani che sappiamo che hanno già avuto di doma che hanno già avuto una una un ruolo importante che si sta ancora definendo ora io non lo so io non ho parole per per poter cercare di capire come si fa a dire che questa copertina è brutta io non non ho proprio né questo non è zago ma chi è voglio dire se non c'è come fate a dire che non è zago ragazzi se andate a rivedere uno spider man o un batman che leggevate negli anni 60 e 70 non è uguale a quello di oggi ovvio sono cambiate le inquadrature la tecnica i disegni allora non se fate riferimento sempre ai disegni ferro non dovreste leggere più niente io poi è chiaro che una cosa può venire meglio o peggio per l'amor di dio ma come si fa a dire che questo non è zago guardate la bellezza di queste di questa copertina poi la colorazione molto molto bella anche questa che con questo sole in fondo promette indichere anche questo un tramonto un inizio di qualcosa un'alba non lo so vedremo durante la storia ma io io ma non lo so ragazzi io faccio fatica a capire le critiche le critiche poi gratuite chiaramente perché vi ripeto se ci sono delle critiche giuste fondate che hanno una logica certo ma a dire che è lo zagor col mascellone e qui super mike ride e ciao troppi bicipiti ma per piacere ma per piacere questa secondo me è un capolavoro di copertina secondo i miei gusti questo è un bello zagor imponente fiero pronta la battaglia voglio dire io non ci vedo niente che non va e di fronte a un nemico altrettanto imponente come lui non non c'è questi due ci sarà uno scontro queste sette prove che sappiamo dovranno arrivare saranno spero veramente interessanti e divertenti poi vedremo che poi la storia è inutile criticarla finché non si legge una volta poi che l'avremo letta e la criticheremo però c'è anche chi riesce a criticare prima di leggere la storia vabbè lasciamo perdere allora andiamo a vedere un po' questo questo albo in seconda in seconda di copertina troviamo la pubblicità del nuovo zagor più con la formula dei racconti di darkwood e il narratore trainante sarà trampi che credo che sia la prima volta se non sbaglio a parte un libro con cico che lo vediamo in copertina se non sbaglio quindi una copertina cerco di levarvi il riflesso una copertina una citazione d'onore anche per trampi in questa copertina dello zagor più ok allora diamo un'occhiata velocemente a questa vi farò vedere qualche tavola ragazzi delle belle più particolari insomma come sempre intanto lui cosa ci dice moreno a moreno ci dice tanto che il prossimo mese ci darà un annuncio molto importante e quindi aspettiamo il prossimo mese per capire di cosa si tratta e poi ci parla come avevamo già detto di questa nuova serie del zagor contro il vampiro che sarà sulla falsa riga di quelli hellingen del 2021 quindi tutti i volumi questa serie conterà in questi volumi tutte le avventure dello zenite di zagor contro il vampiro il lenia varga e tutte le storie che contenevano questi personaggi si parte col primo mi sembra ci sia angoscia e il ritorno del vampiro quindi due storie nel primo volume se non ho capito male e poi ci parlerà anche di zagor e flash che torna in due albi versione buonelliana nel senso come questa della storia di zagor e flash quindi rivedremo anche quella ristampa però in una versione più economica e poi ci parla anche di un po di avvenimenti di questa lucca passata da poco dal mese scorso dove ci sono stati molti incontri e molti eventi zagoriani tra cui gli oscar zagoriani i nostri oscar che abbiamo consegnato proprio durante il gran galà degli oscar a lucca collezionando ok poi aspettiamo allora questa questa questo annuncio che ci darà il mese prossimo moreno vedremo che cos'è allora ragazzi qui abbiamo continuato a vedere i disegni di verni veramente eccellenti bellissimi e poi le tavole come ci aveva già anticipato lui proprio a lucca hanno un taglio molto classico le vignette nelle pagine però in qualche caso con questo troviamo delle belle vignettone grosse che rendono sempre bene guardate questa vignetta c'è tutto un gruppo di indiani che arriva oltre a super mike e tumac ok qui c'è un tentativo di focalizzare veramente belli i disegni di verni belli 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 bene ok vediamo se ritrova qualche altra tavola senza far vedere troppo ok qui c'è un altro racconto di super mike che con zagor riparla delle delle prove della volta precedente quelle che ha vinto lui e quelle che ha vinto zagor e probabilmente farà altre tante prove in questo in questa prossima sfida ok che vediamo poi che arriva tonka molti occhi quindi ragazzi si stanno radunando a quello che è l'appuntamento richiesto da super mike io quest'albo l'ho già letto ragazzi a me a me piace l'audito quello che vi pare contrariamente a quello che ho letto in rete devo dire che a molti piace ragazzi sono pochi quelli che criticano questa storia molti dicono che è stata allungata una forzatura e roba del genere troppi spiegoni invece io non ne ho trovati ovvio quello di super mike andava fatto era dovuto come fassero a spiegare il ritorno di super mike in questo modo dall'ultima volta che è stato un frate ma lo avevamo già detto poi la trama non ha punti morti la storia c'è azione c'è personaggi tutti i caratterizzati abbastanza bene e ovvio che dovremo arrivare poi allo scontro finale che è quello che si sveglierà nel prossimo numero comincerà nel prossimo numero che poi si concluderà a luglio ma io voglio dire ragazzi se non fosse venuta fuori questa storia che moreno avrebbe fatto la storia più lunga della saga zagoriana nessuno se ne sarebbe accorto nessuno avrebbe detto niente se non fosse stata annunciata e detta l'avremmo presa con una storia lunga e bassa di quelle che poi amano in molti ok allora rivediamo la copertina però su numero questa bellissima copertina con inquadratura di tre quarti in basso verso l'alto per me ragazzi è una bellissima copertina e nella quarta invece troviamo il libro di drago nero zagor che ripropone lo speciale numero 8 mi pare dell'incontro tra zago nero e zagor il viaggio degli eroi arriverà un formato un filmato anche di questo ve lo faccio vedere lunedì o martedì dovrebbe arrivare sul canale quindi lo troverete in questi due giorni e vabbè ne parliamo lì però ho rivalutato questo questo questa storia che all'inizio non mi piaceva non mi era piaciuta molto invece rileggendola nel libro l'ho riapprezzata l'ho rivalutata ok ragazzi sarà da oggi in edicola la storia verso uno scuro destino nuovo zenith dove prosegue la saga del ritorno di super mike buona giornata a tutti